Buona domenica della redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Roma, rallentamenti tra Firenze in Pluneta e Firenze Sud per un mezzo fermo in carreggiata al chilometro 297 e 400. In A12 codea la barriera di Rosignano in direzione sud. La statale 223 di Paganico è interdetta per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto, in località Campagnatico a causa di uno smottamento. Per quanto riguarda la viabilità metropolitana fiorentina, sono interrotte le strade provinciali 610 e 58 nel comune di Firenzuola, 306 nel comune di Palazzuolo Sul Senio e 29 e 20 nel comune di Marradi. La provinciale 477 verso Palazzuolo è interdetta ma transitabile per i mezzi di soccorso. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!